grande regas rieccoci ragazzi dopo l'anticipazione come promesso sono qui a farvi anche una piccola recensione una piccola unboxing quindi andremo a vedere al suo interno cosa troviamo e poi vedremo anche una funzione del scanner della king bowling e di ag e di ag come l'app che bisogna andare a scaricare e sì perché senza app lui non potrà funzionare quindi questo qua lo andrete a collegare direttamente nella presa di della vostra vettura e poi tramite cellulare quindi tramite app lo faremo funzionare in questo caso ho preso questa porsche carrera dove ho già provveduto andare a scollegare la presa sul corpo farfallato quindi far accendere al schiamatore e insieme andremo a leggere e cancellare al suo interno vi dico subito anzi andremo a vedere subito cosa troviamo quindi lo scanner obd e le istruzioni italiano e non una volta collegato alla vettura e diciamo aperto l'app bisogna andare a registrarsi e nella registrazione vi chiede dei codici che sono uno di questi due fogliettini dove delle istruzioni ecco una volta fatta la registrazione che bisogna registrarsi è tutto a potete usarlo tranquillamente quindi all'interno questo è quello che trovate ultima cosa vi dico già che nella descrizione di questo video io comunque vi lascio dei link e il mio codice sconto che vi dico già di affrettarvi andare acquistando se siete interessati perché il codice sconto comunque è una piccola validità poi scade e per riprendere lo sconto poi dovete aspettare al venditore che lui ogni tanto lo fa già di su che mette il codice sconto quindi se vi perdete il mio diciamo potete sempre aspettare quello che mette lui per poter acquistare a un ottimo prezzo quindi adesso andiamo in vettura vi faccio vedere appunto che la spia motore accesa e poi andiamo a fare la cancellazione vi faccio vedere il connettore che ho staccato per far accendere la spia motore proprio questa qui allora intanto andiamo ad accendere e notate la spia motore acceso è tanto di messaggio di errore questa è l'app come si presenta appena aperta andiamo su tutte le funzioni complete del sistema qui possiamo scegliere o di mettere manualmente il telaio quindi il vino oppure effettuare scansione vin scusate ma ci potrebbe essere un attimo di ritardo tra la mia voce e la registrazione in questo caso avviene la ricerca del vin se notate in alto tutti i numerini e le lettere che girano ecco qua telaio trovato la marca porsche ok facciamo ok qui conferma qui possiamo andare direttamente su test veloce oppure selezione sistema quindi visto che noi sappiamo che c'è l'errore nel motore possiamo andare direttamente a fare una ricerca mirata quindi seleziona il sistema però facciamo insieme un test veloce quindi la prima voce e adesso è partita la vera e propria scansione in questo caso ci fa la scansione di tutte le centraline che trova e man mano che trova le centraline noterete anche dove ci sono gli errori e dove non ci sono gli errori direi che la scansione è anche abbastanza veloce allora se notate proprio qui in questa centralina elettronica motore digitale ha trovato tre errori quindi entriamo dentro per andare a leggere gli errori guardate leggere il codice errore possiamo andare a leggere i parametri e tante altre cose ancora magari le faremo in un altro video quindi leggere il codice errore ecco qua tre errori tutti inerenti al corpo farfallato a questo punto qui se notate sulla destra c'è un punto interrogativo entrando dentro vi porta a una ricerca su google dove potete trovare delle soluzioni scritte o delle foto oppure dei video ovviamente se c'è qualcuno che ha trattato questo tipo di codice errore che sarebbe P0638 P2122 e P2127 vi faccio un esempio entriamo in un 1 dove c'è il punto interrogativo sulla destra e ci porta proprio su google guardate con tanta di presunta soluzione dell'errore quindi diciamo di chi l'ha trattato di chi ne ha parlato torniamo indietro ne facciamo chiudi torniamo ancora indietro e qui andiamo a fare cancellazione dei codici guasto conferma ci chiede se siamo sicuri di voler cancellare confermiamo se vogliamo leggere subito quindi ritorniamo dentro quindi leggere il codice errore vediamo se ce li ha cancellati eccolo qua ci dice che è regolare quindi l'ha già cancellato quindi possiamo uscire fuori da questa schermata e andare a vedere in vettura se la spia è ancora accesa avviamento direi che ha fatto proprio il suo dovere di cancellazione spia spenta e anche il messaggio quindi abbiamo risolto e non finisce qua perché io comunque vi terrò ancora in considerazione la prossima vettura che arriverà andremo a fare un'altra scansione insieme quindi ci sarà un altro video vi ricordo che nella descrizione del video vi lascio il link per andare ad acquistarla occhio al codice sconto e oltre al link di questa piccola grande diagnosi della king bowling troverete anche altri link amazon che servono per supportare il canale del piccolo meccanico sempre se la volete mettendo un bel like se vi è piaciuto iscrivetevi al canale che è totalmente gratis e attivate la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo ciao a tutti